Una mobilitazione per il diritto alla salute dei cittadini del Vallo di Diano, per dire no alla chiusura dei reparti dell'ospedale di Polla e ribadire il proprio diniego allo smantellamento della sanità pubblica. È quella organizzata dalla FIALS Salerno ed è in programma dinanzi al presidio ospedaliero del Vallo di Diano il prossimo 23 maggio a partire dalle ore 10. L'iniziativa è stata presentata nella sede della FIALS Salerno dal segretario generale Carlo Lopopolo, da Nicola De Canio e Franco Sanseverino, rispettivamente segretario aggiunto e dirigente provinciale. Siamo accanto alle comunità del Vallo di Diano che lottano per il diritto alla salute, ha detto Carlo Lopopolo. La carenza di medici in primis e di tutto il personale sanitario che affligge l'ospedale Luigi Curto di Polla e mette a rischio l'esistenza di un centro nevralgico riconosciuto DEA di primo livello, pronto soccorso della rete delle emergenze e traumi, SPOC nella rete per l'ictus celebrale, emergenza cardiologica ed emergenze pediatriche. Uno snodo fondamentale, rimarca il sindacato, che serve tutto il comprensorio in un territorio che comprende circa 70.000 abitanti e che dista da altri ospedali almeno 50 chilometri. La manifestazione in programma il prossimo 23 maggio si terrà ugualmente in caso di pioggia all'interno del centro sociale Don Bosco di Polla.